Ciao, vediamo assieme come funziona la sezione prodotti revocati di FitoGest+. Innanzitutto cos'è un prodotto revocato? Un prodotto revocato è un prodotto che ha subito un decreto di revoca per cui non sarà più utilizzabile, deve essere smaltito entro una determinata data. Perché è interessante questa ricerca? Perché mi permette di andare ad individuare se nel mio magazzino ho dei prodotti che sono stati revocati ma posso ancora utilizzare oppure ho dei prodotti che sono stati revocati e non posso più utilizzare. Andiamo a vedere come funziona questa ricerca. Io posso individuare un prodotto per nome commerciale oppure posso fare una ricerca per numero di registrazione oppure posso fare una ricerca per tipo di azione, una caricida, un anticrittogamico e così via oppure per azienda detentrice. Per riuscire a capire quali sono i dati che vengono resi disponibili vediamo una pagina di ricerca. Qui abbiamo il nome del prodotto, il numero di registrazione, quando è stato revocato, oltre alla data di revoca, la data di revoca è quando è uscito il decreto, abbiamo delle altre date. Questa è la data entro cui l'azienda poteva produrlo, questa è la data entro la quale il commerciante poteva commercializzarlo e queste sono le date di smaltimento massimo delle scorte e di utilizzo all'interno dell'azienda agricola. Quindi se abbiamo uno di questi prodotti con data vecchia dobbiamo necessariamente mandare lo smaltimento. Mi auguro che questo servizio possa esserti utile per valutare la bontà dei prodotti che hai a magazzino e mi auguro che tu trovi vantaggio nell'utilizzo di FitoGest+. Buon lavoro, ciao!